Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior cellulare per anziani. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Brondi Amico Chic. Brondi Amico Chic è un telefono cellulare dual SIM che può essere utilizzato con due diversi operatori, il che lo rende perfetto per i viaggi. Gli ampi tasti retroilluminati lo rendono facile da vedere e da usare anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre gli auricolari sono inclusi per poter iniziare a usare il telefono fin da subito. La comoda base di ricarica consente di avere sempre a disposizione un modo per ricaricare il telefono, mentre il tasto SOS permette di chiamare rapidamente i soccorsi in caso di emergenza. Con il suo design elegante e le sue comode funzioni, il Brondi Amico Chic è un'ottima scelta per chi desidera un telefono dual SIM facile da usare e di bel aspetto. Il telefono è dotato di un'ampia tastiera retroilluminata che ne facilita l'utilizzo anche in condizioni di scarsa illuminazione. Numero 4. Easy Phone Il telefono cellulare Easy Phone Prime va 5 e perfetto per gli utenti anziani, con un grande tasto retroilluminato e la funzione di numero parlante, e una batteria da 800 ma per una lunga durata in stand-by. Lo schermo QVGA da 1,8 pollici è dotato di caratteri grandi e icone grandi per una migliore visualizzazione, ed è presente uno speciale pulsante SOS per le chiamate di emergenza. Sono presenti 8 tasti di chiamata rapida, una torcia incorporata, radio FM, lettore audio, Bluetooth, sveglia e calcolatrice. Il telefono viene fornito con un caricatore, un cavo USB, un cordino, una guida rapida e un manuale d'uso. Il telefono è dotato di un'ampia tastiera retroilluminata che facilita la composizione dei numeri e di una funzione di numero parlante che annuncia i numeri mentre li si con... Terzo posto c'è RAVIAD Cavo. Il cavo da USB-C a USB 3.0 ad RAVIAD offre una velocità di trasferimento dati superveloce e fino a 5 gigabit al secondo con i dispositivi USB 3.0 compatibili. Il connettore reversibile lo rende facile da usare e può essere fissato a dispositivi con ingresso USB di tipo C senza doversi preoccupare della corretta direzione di inserimento. Il cavo è realizzato con cavi intrecciati nylon ad alta densità e connettori in alluminio per una maggiore. Durata ed è coperto da una garanzia di 24 mesi e da un servizio clienti cordiale. Questo cavo è la soluzione perfetta per collegare il dispositivo USB di tipo o C a un computer o a un altro dispositivo abilitato USB 3.0. La velocità di trasferimento dati fino a 5 gigabit al secondo lo rende ideale per il trasferimento di file di grandi dimensioni o lo streaming di video e audio. Numero 2. Acusha. Il cavo USB-C di Acusha è perfetto per le vostre esigenze. Con un esterno in nylon intrecciato di alta qualità, i nostri cavi sono in grado di resistere all'uso intenso. Testati per essere piegati e ripiegati 9000 volte, i nostri cavi sono più piccoli, più intelligenti e più convenienti che mai. I nostri cavi supportano anche la ricarica sicura ad alta velocità e il trasferimento veloce dei dati. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci. Ufficio Acusha risolveremo il vostro problema nel più breve tempo possibile. Il cavo USB-C di Acusha è perfetto per le vostre esigenze. Con un esterno in nylon intrecciato di alta qualità, i nostri cavi sono in grado di resistere all'uso intenso. Testati per essere piegati e ripiegati 9000 volte, i nostri cavi sono più piccoli. Infine, il numero 1 della nostra lista, Amazon Basics. Cavo Amazon Basics da USB-C a USB 2.0A, un ricambio per il tuo telefono o tablet Android, e Reader Kindle e altri dispositivi con porta micro USB che supportano la funzionalità USB OTG. Questo cavo consente di collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna per la ricarica e di trasferire dati tra il dispositivo e un computer o un portatile. Il connettore reversibile di tipo C è progettato per adattarsi a qualsiasi orientamento della porta del dispositivo mobile e del caricatore. Questo cavo è compatibile con tutti i dispositivi Android dotati di porta micro USB, compresi Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8, Note 9 e altri dispositivi. Il cavo funziona anche con i Kindle Fire HD 8 e HD 10, il Kindle Fire HD X 8,9 e il tablet Amazon Basics Fire HD 8. Il cavo da USB-C a USB 2.0A è un modo versatile e conveniente per mantenere i dispositivi carichi e connessi. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti i mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.